Lo scopo della nostra discesa in campo a partire da oggi si intitola Sciopera Generale! Sciopera Generale! Perché? Perché vogliamo fare la sciopera generale? Perché non rifinirla con questa buffonata del Green Pass e ci invitiamo tutti i lavoratori a scioperare, a chiudere e se non sarà sempre di scioperare, di stare in malattia e anche invitiamo tutti i commercianti ad abbassare questi bandoni delle loro serrande per dire basta con questa ingiustizia, con questo razzismo dilagante propinato da uno Stato, da un governo anticostituzionale e tutti noi sappiamo quanti danni fanno questo sacro vaccino che stanno propugnando destra manca anche il gruppo dello Stato ha detto che è un dovere un dovere è solo quello che è norma di legge non quello che sta dicendo lui vergogna! Mattarella! vergogna! Stanno dicendo la norma di costituzione e dunque e dunque sappiamo cosa sta accadendo i vaccini che erano morti bravi, bravi, bravi che sono i motosiclisti che stanno passando bravi, bravi bravi, bravi e allora stavamo ascoltando il problema serio bravi, bravi bravi, bravi Vai, vai, alla grande Atteniamo perché altrimenti la persona che non è femminile da qua si sente ma siccome è molto molto importante le cose che ci dirà questa ragazza dobbiamo stare particolarmente attenti e vi spiego perché se noi guardiamo la tv di Stato, le tv commerciali tutti riportano e dicono le stesse cose il vaccino fa bene, il vaccino salverà questa umanità che rischiava per lo 0,002% di ammalarsi 0,002% si ammalava e loro hanno scogitato questo grande, sacro vaccino che dovrebbe liberare la verità sappiamo tutti che i morti da malora sono aumentati del 10.000% da 15.000 morti per malore l'anno scorso siamo a 50.000 quest'anno muoiono così per malore anche i bambini muoiono per malore mentre sono a letto poi dopo si va a sapere che è stato fatto il sacro vaccino ma che volete, il sacro vaccino è accettabile che vi ammazza il covid 0,002% non è accettabile ma che il vaccino stia facendo, stia faciliando il popolo italiano questo va bene, ha capito come è la storia? e allora noi vogliamo sentire la testimonianza diretta di una persona che si è vaccinata e che ci racconta la sua esperienza vi presentiamo Cisella Buonasera, buonasera a tutti il vaccino mi ha tolto l'entusiasmo ciao Piero sai che cosa si potrebbe fare? no ma tanto li stanno bloccando sicuramente vi inizia ma si potrebbe dire i carabinieri non possono fare niente perché è talmente bella cambia la idea ovviamente sto scherzando io ho fatto la prima dose a febbraio perché la mia azienda mi ha gentilmente invitata a farmi la prima dose nonostante la mia anima sentisse che non andava bene l'ho messa da parte ho detto ma dai ma va cosa vuoi che sia è un vaccino questo è quello che mi sono raccontata ma in quel periodo io ero profondamente ignorante me lo dico da sola ci vuole poco a dire oh sono ignorante cosa vuol dire? ignoravo completamente quali fossero le possibili implicazioni i possibili infetti avversi come fosse stato fatto questo dannato siero salvifico ho scoperto dopo subito dopo la dose qualche giorno dopo ho iniziato ad avere delle reazioni avverse quindi le più semplici ho iniziato a perdere i capelli ammazzi ammazzi e lì ho detto ma guarda sono talmente triste mio padre era morto da un mesetto quindi io correlavo qualsiasi effetto avverso al dispiacere per la morte di mio padre quindi sono dimagrita ma in maniera malata non un dimagrimento sano in maniera preoccupante ho iniziato a perdere i capelli e correlavo tutto con la scomparsa di mio padre col dolore col dispiacere ci stava ad un certo punto dopo circa una settimana 10 giorni ho iniziato a comparirmi i lividi in tutto il corpo senza che io prendessi nessun colpo a quel punto ho detto beh qui c'è qualcosa di strano perché i lividi non ti compaiono nel corpo nelle braccia nelle gambe senza che tu prenda dei colpi sono andata da un medico che mi ha detto fermati non continuare essendo un medico io ho dato retta a questo medico e da quel momento ho iniziato ad informarmi questo medico mi ha suggerito di fare gli esami mi ha detto da tromofilia e guarda caso ho scoperto di essere un soggetto tromofiliaco ma guarda non lo sapevo prima non avevo mai avuto problemi e adesso lo scopro con questi effetti avversi da quel momento è iniziata la mia preoccupazione perché il governo mi impone di dovermi vaccinare e poter avere il mio sacro diritto di lavoro non è possibile io sono a sospenza ragazzi perché non ho fatto la seconda dose io non lavoro da aprile perché la mia salute è prima di tutto la cosa più importante perché i miei figli non devono avere una mamma che si arrende che ha perso la testa per il lavoro i miei figli devono avermi come esempio la cosa più importante io non mi piego e questa è la mia testimonianza tutti gli altri medici ogni volta che io mostravo le gambe le braccia ma guardate cosa succede cosa avevano fatto secondo voi potete ridere perché hanno riso hanno riso ovviamente nessuna correlazione e io pensavo ma se mi fosse venuta una trombosi seria visto che io sono una persona che ha questo tipo di mutazione genetica avrebbero riso comunque penso proprio di sì e lì ho provato il ribrezzo ho provato schifo per questa classe medica che non ti tutela è una vergogna ci sono tanti tanti specialisti e tutti si nascondono dietro un dito per tutelare le loro ticelle le loro spritz la loro vacanza vergogna siccome ho proprio voglia di farvi ridere vi dirò le varie cose che mi hanno suggerito pur di fare la dose perché sapete è molto importante fare la dose perché papà Stato te lo dice perché vuole il nostro bene quindi di fronte ai lividi non correlati mi dicevano vabbè può tranquillamente fare delle punture di eparina per evitare la trombosi e vabbè certo mi faccio una medicina per evitare gli effetti di un'altra medicina mi sembra logicissima la cosa un altro medico un angiologo mi ha detto per evitare gli effetti avversi della seconda dose le do una cura antitrombotica forte così non succede niente cosa mi stai dicendo mi stai dicendo che il siero benedetto qualsiasi marca non ha fatto nessuna distinzione ragazzi nessuna qualsiasi siero benedetto poteva darmi degli effetti avversi quindi con questo niente in mano tranne il parere di un amatologo che mi ha detto non farti la seconda dose però non te lo posso scrivere e chi me lo devo scrivere il mio gatto mi deve fare l'esenzione a questo punto ma non deve fare un medico nessuno si prende la responsabilità provo in un centro vaccinale a chiedere l'esenzione porto tutti gli esami racconto quello che l'ematologo mi ha detto